contento. Anche il calabrese era contento. Il maestro gli assegnò il posto e lo accompagnò al banco. Poi disse ancora, ricordatevi bene di quello che vi dico, perché a questo fatto potesse accadere che un ragazzo calabrese fosse come in casa sua a Torino e che un ragazzo di Torino fosse in casa sua, in casa propria, al reggio di Calabria, il nostro paese lottò per 50 anni e 30.000 italiani morirono. Voi dovete rispettarvi, amarvi tutti fra voi, ma chi di voi offendesse questo compagno perché non è nato nella nostra provincia si renderebbe indegno di alzare mai più gli occhi da terra quando passa una bandiera tricolore. Appena il calabrese fu seduto al posto, i suoi vicini gli regalarono delle penne e una stampa e un altro ragazzo dall'ultimo banco gli mandò un francobollo di Svezia.